Voi siete la Chiesa che cammina per cercare, visitare, incontrare, ascoltare, condividere e sostare presso le persone più povere. Con queste parole, Papa Francesco ha salutato i membri del Circolo San Pietro, l'associazione di volontariato di Città del Vaticano. All'inizio del Mese Mariano, il Pontefice ha esortato i partecipanti all'incontro a seguire l'esempio di Maria, quello di andare ad incontrare i bisognosi e portare loro la visita di Dio. A ciascuno di voi, ha detto il Papa, è chiesto non semplicemente di andare incontro ai più bisognosi, ma di andare portando Gesù. È l'andare da discepoli, da amici del Signore. Si tratta di condividere la sua parola, quella del Vangelo, di ripetere i suoi gesti di perdono, di amore, di dono, di non cercare il proprio prestigio, ha concluso Papa Bergoglio, ma il bene degli altri. In quest'anno della misericordia, mentre ci sforziamo di percorrere la strada delle opere di misericordia, siamo chiamati a rinnovarci nella fede. Per portare la visita del Signore a quanti soffrono nel corpo e nello spirito, dobbiamo coltivare la fede, quella fede che nasce dall'ascolto della parola di Dio e cerca una profonda comunione con Gesù.